Allora, riassumiamo i concetti fin qui esposti. Le particelle del mondo elementare devono rispettare le leggi della meccanica quantistica. Allo stesso tempo sono soggette alle leggi di gravità. E la domanda che ci siamo posti è è possibile individuare la posizione di una particella con assoluta precisione così come ci insegna la geometria? Ecco le risposte a cui siamo arrivati finora. Secondo la meccanica quantistica possiamo restringere la posizione di un elettrone, restringere lo spazio in cui si trova infinitamente. Basta rinunciare all'informazione sulla sua velocità. Ma, qui arriva il grande ma, se teniamo in conto dell'attrazione di gravità, se teniamo in conto della forza di gravità, che è una delle quattro forze fondamentali dell'universo, arrivate a un certo punto, restringi, restringi la posizione dell'elettrone, arrivate a un certo punto e la sua densità sarà così alta che, plup, l'elettrone sparisce dentro il suo piccolo buco nero. Come che sparisce? Eh sì, perché si immagini, una volta che la densità diventa così alta, perché l'abbiamo ristretto in uno spazio così piccolo, perché vogliamo sapere esattamente dove si trova, la densità così alta si trasforma in un buco nero, neanche la luce può uscire, quindi non potremo mai vederlo. E non potendolo più vedere, sparisce. Mi faccio sbrogliare il casino che ho in testa. Secondo la teoria sulla gravità... La teoria della relatività di Albert Einstein. Quella lì. Secondo la teoria di Einstein, se si confina un oggetto in uno spazio molto molto piccolo, la densità diviene talmente alta che si crea un buco nero, in cui questo oggetto rimane intrappolato. Boom! L'oggetto sparisce. L'ho detto in maniera molto chiara, dottore. Nella realtà però le cose non spariscono in buchi neri, quindi non è possibile restringere la posizione all'infinito. Esattamente, sta proprio qui il succo del discorso. In altre parole, posso conoscere la posizione di un oggetto con grande precisione, ma non con infinita precisione. C'è un limite alla precisione con cui io posso individuare la posizione di un oggetto. E questa è una delle più sconvolgenti rivelazioni di tutti i tempi, secondo me. Quando io la lessi la prima volta, rimasi sconcertato, a dire poco. E io voglio capirne di più. Vuole sapere che cosa ne possiamo dedurre... cosa possiamo dedurre da tutto questo sullo spazio in cui viviamo? Attenzione, la discussione che segue è alla base di una delle teorie candidate a teorie della gravità quantistica. Si chiama la teoria della gravità quantistica a loop. È una teoria ancora in costruzione e non è possibile confermare o smentire quanto essa dica. Un'altra teoria candidata è per esempio la teoria delle stringhe. La discussione che segue quindi in questo video rivela come è fatto lo spazio secondo la teoria della gravità quantistica a loop. Allora, lo spazio in cui ci muoviamo, lo spazio in cui si muove il mio braccio in questo momento, lo spazio in cui si muove un aereo nel cielo, lo spazio in cui si muovono i pianeti, gli astri nello spazio, lo spazio in cui si muove una macchina che passa di fronte a noi, in cui camminiamo per la strada, questo spazio non è continuo, ma è granulare. Granulare? Cosa vuol dire? Granulare significa che non posso muovermi di una quantità qualsivoglia. Mi devo muovere diciamo a salti. Come se vivessimo in un reticolo, un reticolo enorme, in cui per spostarci dobbiamo muoverci per forza da un punto del reticolo ad un altro. Non possiamo fermarci a metà tra due punti del reticolo. Questi disegni e la discussione sui quanti di spazio sono ispirati o tratti dall'affascinante libro di Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare, di Raffaello Cortina di Toro, 2014. Una lettura assolutamente consigliata. Carlo Rovelli è uno dei fondatori della gravità quantistica loop. Se ci addentriamo un po' più in profondità nei risultati che hanno trovato gli scienziati, scopriamo che ogni nodo di questo reticolo in realtà rappresenta un grano quantistico di spazio. Cosa vuol dire? Si tenga forte dottore, questo significa, in altre parole, che lo spazio è fatto di questi grani, che in fisica si chiamano più appropriatamente quanti. E cosa vuol dire quanti? Bella domanda. Prendendo l'esempio dei quanti di spazio, prima di tutto significa che esiste una quantità minima di volume per questi grani, per questi quanti di spazio. In secondo luogo, ognuno di questi grani ha un volume che è multiplo di quella quantità minima. Esiste un volume minimo per i grani e tutti i grani hanno un volume che è multiplo di questo valore minimo, questo mi sta dicendo. Esatto, e questo significa che vi sono solo alcuni specifici valori permessi per il volume di questi quanti, di questi grani. È proprio questo che vuol dire la parola quantistico o quantizzato, che il volume dei grani non può essere qualsiasi numero. Per fare un esempio semplificato, ogni quanto può avere un volume che è quello minimo, oppure due volte quello minimo, o tre volte, eccetera eccetera, ma mai un valore intermedio a questi, e nemmeno un valore pari a zero. Quantizzato significa questo, solo valori multipli di un minimo. Mi fa un esempio più concreto, scusi, e... Certamente. Si immagini di entrare in un museo, per esempio, usando una rampa. Lei può fermarsi dove vuole sulla rampa, a qualsiasi altezza dal suolo, e se avanza pochissimo, la sua altezza aumenta pochissimo di quanto vuole lei. Si può fermare in qualsiasi posizione, a qualsiasi altezza. Ecco, il concetto di quanto vogliamo noi, in fisica e matematica, si chiama valore continuo. Invece, se prendiamo le scale, solo potremo fermarci ad ogni gradino, non possiamo fermarci a metà gradino, perché cadremmo sul gradino di nuovo. Solo l'altezza dei gradini sono permessi. In questo caso, l'altezza assume quindi valori quantizzati, ovvero solo alcuni valori dell'altezza sono permessi. Ah, ho capito. Mi è piaciuto questo esempio. Quindi quanti di spazio possono solo avere volumi ben precisi, non quello che vogliamo. Esatto. Questi grani sono i quanti del campo gravitazionale, sono i quanti di gravità. Molto affascinante. Mi lasci pensare un attimo, però. Esiste quindi uno spostamento minimo? Esatto. Non esistono spostamenti infinitamente piccoli, proprio perché lo spazio è fatto di grani di dimensione finita. Aspetti un attimo. Mi sembra tutto molto interessante, ma c'è una cosa che non mi quadra. Quando io mi muovo, mi sembra che il mio movimento sia fluido, sia continuo. Esatto, ma è solo un'illusione. Si immagini. Il salto minimo di cui stiamo parlando è un numero estremamente piccolo. In metri è 0,0000000, 34,0 dopo la virgola e poi un 1, come ordine di grandezza. E quindi è un numero estremamente piccolo. È un salto così piccolo che non ce ne possiamo rendere conto. Per farle capire meglio, pensi a un'immagine alla televisione. Lei si trova a qualche metro di distanza, vede per esempio dei disegni, delle linee sulla televisione e le sembrano delle linee molto ben definite. Delle curve, delle scritte come questa. Però se si avvicina alla televisione, si porta a due centimetri così tanto dalla televisione, si accorgerà che queste linee in realtà sono fatte di tanti piccoli quadratini, uno di fianco all'altro, ma che visti da lontano, prima di tutto i quadratini non si vedono. Così come non si nota il piccolo salto nello spazio quando ci muoviamo. Il mio braccio si muove, si sta muovendo di tanti piccoli salti uno dietro l'altro, però sono cose piccoli che non me ne accorgo. Così come non mi accorgo che l'immagine della televisione è fatta di tanti quadratini. Sembra, ciò che le sembrava una curva continua e ben definita in realtà è fatta di tanti piccoli quadratini. Ciò che le sembra un movimento continuo nello spazio in realtà è fatto di tanti piccoli salti. Questi piccoli salti in fisica si chiamano quanti. Il concetto di quanto è proprio questo, quello di un salto minimo necessario. Non si può fare un salto che sia inferiore a questo minimo che chiamiamo un quanto. In questo caso stiamo parlando di quanti di spazio. Vorrei però che non si facesse un'idea sbagliata dottore di questo reticolo di cui lo ho parlato. Non deve pensare che esista un reticolo su cui il mondo si appoggia. Per usare le parole di Carlo Rovelli, i quanti di spazio non hanno un luogo dove stare. Essi stessi sono il luogo. Ovvero lo spazio è fatto di questi grani che interagiscono tra loro. Sempre citando Rovelli, lo spazio è un pullulare di grani che interagiscono tra loro e con le cose. Lo spazio è creato dall'interagire di quanti individuali di gravità. In altre parole, i quanti di gravità interagiscono tra loro ed interagiscono con la materia, con le particelle, con gli atomi, insomma con i quanti di materia. E da queste interazioni si crea lo spazio. Non lo trovo una cosa assolutamente sconvolgente, però affascinante allo stesso tempo. E io credo che sia una cosa eccezionale. Quindi lo spazio non è divisibile infinitamente. Proprio così, da un lato stravolge la visione geometrica del mondo. Mentre la geometria con Euclide e tutti i suoi successori rappresenta lo spazio come infinitamente divisibile, in realtà la gravità quantistica ci rivela che lo spazio è fatto di quante di gravità, che hanno un volume minimo ed esiste perciò uno spostamento minimo. E allo stesso tempo la gravità quantistica rivoluziona il concetto di spazio al quale siamo abituati e che nacque con Newton. Fu Newton ad introdurre il concetto di spazio assoluto, uno spazio in cui ci muoviamo come una grande scatola immobile, ma in realtà lo spazio inteso come luogo dove ci si muove non esiste. Esistono i quanti di spazio, i quanti di gravità, che interagiscono tra loro. E da questa interazione si crea lo spazio così come lo percepiamo. Fatemi capire, sbotta Euclide un poco turbato. Eisenberg, passami Bronstein per favore. Subito. Ehi Euclide, mi cercavi? Chiede Bronstein. Proprio te volevo. Allora, tu hai combinato la gravità con la meccanica quantistica e hai gettato le basi per questo concetto dello spazio quantistico. Vero, ribatte Bronstein. Secondo la gravità quantistica a loop, che hanno sviluppato poi gli scienziati dopo di me, lo spazio è fatto di quanti e quindi, mi dispiace dirtelo, ma probabilmente lo spazio non è infinitamente divisibile. Euclide, un poco affranto, ammette però la sconfitta da buon uomo di scienza. Ci rimane solo da vedere, dice, se gli esperimenti confermeranno questa teoria, ma sembra che abbia molto senso. Grazie Bronstein, si impara sempre qualcosa. E a questo punto salterebbe fuori Newton, tutto preso da una questione che gli sta a cuore. Scusate ragazzi, dice Newton, volevo precisare una cosa importante. È vero che io ho introdotto il concetto di spazio assoluto come se fosse una scatola in cui ci muoviamo, ma è anche vero che dico espressamente nel mio libro Principia Matematica che è solo un artefatto matematico per poter formulare le leggi, le leggi di Newton. E qui Newton arrossisce un poco. Bronstein e Euclide lo difendono subito. Vero Newton, abbiamo letto il tuo libro e confermiamo. Aveva avvertito tutti che solo era una ipotesi di lavoro che facilitava i conti. Il fatto è che poi tutti quanti nel mondo si sono convinti che ci si muovesse veramente in uno spazio assoluto. Ma la gravità quantistica sta facendo ora di nuovo luce su questo aspetto. Newton pare sollevato, ma allo stesso tempo un poco confuso. Lo spazio è fatto di quanti di gravità. O meglio, dice Trasese, per citare Rovelli, i quanti di gravità sono lo spazio. Ma non riesco proprio ad immaginarmeli. Forse Simone ci può aiutare. Ti aiuto io, Newton. Cercando un modo per immaginarsi quanti di spazio, mi sono imbattuto un giorno in alcune palline di gel che si usano in botanica. Ha un bicchiere, dottore? Certo, io lo prendo subito. Un attimo. Eccolo qui. Questo bicchiere contiene un numero spropositato di quanti di spazio. È un numero con più di cento cifre. Ma se i quanti di spazio fossero molto più grandi, io me li immaginerei così. Reali, ma impalpabili. Ricordi cosa dice Rovelli? I quanti di spazio non hanno un luogo dove stare. Essi stessi sono il luogo. E ogni giorno gli scienziati che lavorano per sviluppare la teoria della gravità quantistica si avvicinano sempre di più alla soluzione. È una teoria in evoluzione che rimpiazzerà la teoria della relatività di Albert Einstein fondendola con la meccanica quantistica. Spettacolare. Wow, tutto questo mi lascia senza parole. Le credo, le credo. Allora io ora lascio riflettere sui quanti di spazio e mentre esco, mentre mi muovo nello spazio, immaginerò l'illusione di un movimento continuo quando invece tutto si muove a piccoli salti quantistici di quanti di spazio. Arrivederci dottore. Alla prossima, Simone. Wow, lo spazio è granulare, è quantistico, vi riempie di gioia la bellezza della natura. Lo spazio che ci circonda nasce dall'interazione tra i quanti di gravità e i quanti di materia, tra ogni oggetto ed il campo gravitazionale, tra noi stessi ed il campo gravitazionale. Certo, questa, come abbiamo detto nel video, è quello che dice una delle possibili teorie di gravità quantistica, ma il fascino della matematica e della fisica forse sta proprio qui, ci permette di guardare un po' più in là, di vedere un po' più in là di quello che conosciamo. Ci fa sognare. Nel prossimo episodio il nostro personaggio rivelerà, anche se con un po' di vergogna, quello che vede quando cammina per la strada. Nel frattempo potete visitare la nostra pagina web e i nostri social e trovate il link nella descrizione qui sotto. Non dimenticatevi di cliccare mi piace e di iscrivervi al nostro canale di YouTube di Nuggets of Science per non perdervi il prossimo episodio. A presto!